È previsto dalla regione Puglia un dimensionamento degli istituti scolastici, insomma diventano meno concretamente e le scuole interessate per Taranto e provincia saranno 14 e si perderanno 7 scuole, una superiore in città e poi un istituto comprensivo in meno in alcuni dei comuni della provincia. Di questo parliamo con Fabio Mancino, segretario generale della CIS Scuola Taranto Brindisi. Buongiorno, ben trovato. Sì, buongiorno a te e a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano. Dicevamo, insomma, c'è questo dimensionamento. Perché voi siete assolutamente contrari a questi tagli? Che cosa comportano secondo voi? Qual è l'aspetto negativo? Ma no, è tutto negativo. Diciamo che non poteva partire peggio di così la ripresa dell'elezione. La lente di ingrandimento per noi è proprio sul dimensionamento dopo la pubblicazione della delibera del piano di dimensionamento di fine dicembre, del 29 dicembre. Un piano di dimensionamento che così come è stato licenziato dalla regione ci preoccupa. Guardate, nella provincia ionica assistiamo un po', dico io, ad una seconda mattanza come diversi anni fa quando il territorio era stato già interessato da un drastico decremento delle istituzioni scolastiche che hanno poi portato alla nascita di istituti con oltre 1800 alunni. Io dico che, a mio avviso, è mancato il confronto serrato con le organizzazioni sindacali che avrebbe consentito di trovare soluzioni migliori. Questo significa anche una perdita di posti di lavoro? Assolutamente sì. Se poi si considera che eravamo in attesa di una legge di bilancio così come è stata che avrebbe potuto ridurre l'impatto del piano di dimensionamento. Noi non capiamo perché la delibera è stata fatta a fine dicembre e non il 5 gennaio che è stato il termine ultimo e quindi avremmo avuto il tempo per un ulteriore confronto con le organizzazioni sindacali. Adesso cosa si può fare? Adesso non si può fare nulla perché la situazione, la delibera è già uscita, le scuole interessate sono 14, per Taranto ci sarà una riduzione di 7 scuole, una scuola secondaria di secondo grado e un istituto comprensivo per ognuno di diversi comuni tra Castellaneda, Cristiano, Ginosa, Motto, Lapalagiano e San Giorgio Ionico. Nello specifico nel comune di Castellaneda c'è la fusione dell'istituto Pasco di Giovinazzi con l'istituto Surigo, quindi si arriva ad oltre 1200 alunni, a Taranto la fusione dell'istituto Liside con l'istituto Cabini, oltre 1300 alunni, a Crispiano la fusione delle due istituzioni scolastiche comunali, Circolo Didattico Mancini e istituto comprensivo Severi, il comune di Ginosa, anche qui la fusione delle due istituzioni scolastiche si arriva ad un unico istituto con oltre 1400 alunni, l'istituto comprensivo De Leda San Giovanni Bosco e istituto comprensivo Calò. C'è stessa situazione al comune di Mottole, unificazione del circo didattico San Giovanni Bosco con l'istituto comprensivo Manzoni e così anche a Palagiano. Ancora a San Giorgio Ionico la fusione delle due attuali istituzioni scolastiche e l'istituto comprensivo Pascoli con il circolo didattico Maria Pia. Dicevamo che insomma adesso non si può fare, diceva ieri mi scusi prego. Sì, solo ieri a questione ormai conclusa l'assessore ha convocato le organizzazioni sindacali a seguito di un'ulteriore nostra altra richiesta, è stato un incontro relativo sempre al piano di menzionamento sottolineando come se non lo sapessimo la difficoltà dell'intera operazione, evidenziando che anche altri scenari in vista del prossimo anno scolastico, guardate il prossimo anno scolastico sarà dedicato in maniera preeminente al dimensionamento del secondo ciclo. Ma concretamente questo si fa per andare a risparmiare? Sì, solo per andare a risparmiare, sì. Quindi da una parte diciamo che bisogna investire nella scuola e dall'altra creiamo dei quartieri a posto delle scuole con 2000 alunni dentro, insomma mi sembra di avere intuiti. Sì, per la città della scuola la riorganizzazione della rete scolastica non può e non deve rispondere a queste logiche che sono solo logiche di risparmio e logiche numeriche, né può essere concepita la scuola come qualunque altra pubblica amministrazione perché non deve prescindere da quelle che sono le caratteristiche dei bisogni delle singole comunità in realtà territoriale.